Nello scorso video abbiamo visto il concetto di densità, vi lascio il link in alto a destra. In questo video vediamo la cosiddetta notazione scientifica. Quando ho parlato di multipli e sottomultipli avevo accennato al fatto che i numeri troppo piccoli o troppo grandi hanno diversi zeri, scomodi da portare in giro. Per evitare questo possiamo utilizzare la notazione scientifica. Sostanzialmente si procede con il dividere o moltiplicare il numero in questione per potenze di 10. Quest'operazione viene fatta finché non otteniamo un numero scritto in notazione scientifica formato da un numero compreso tra 1 e 10 moltiplicato per una potenza di 10. Vediamo una serie di esempi. Esempio 1, scriviamo in notazione scientifica il numero 75100. Quando il numero è molto grande, come in questo caso, procediamo con il dividere tale numero per 10 finché non otteniamo la notazione scientifica. Partiamo dall'ultima cifra che in questo caso è 0 e contiamo quante cifre ci sono spostandoci verso sinistra finché non arriviamo ad un numero compreso tra 1 e 10. Quindi in questo caso ci spostiamo verso sinistra finché non arriviamo al numero 7 che è compreso tra 1 e 10. Ovviamente non ci possiamo fermare alla cifra 5 perché in quel caso avremmo come risultato 75 per una potenza di 10. E vi ricordo che il numero deve essere compreso tra 1 e 10. Arrivando fino al 7 abbiamo attraversato 4 cifre quindi bisogna dividere il numero 4 volte per 10. In questa posizione, cioè dove siamo arrivati, mettiamo una virgola e moltiplichiamo per 10 elevato a 4. Il risultato è quindi 7,51 per 10 alla 4 dove 4 è appunto il numero di posizioni o comunque il numero di cifre che abbiamo attraversato per arrivare a 7. Come vedete abbiamo un numero che è 7,51 che è compreso tra 1 e 10 moltiplicato per una potenza di 10. Esempio 2. Scriviamo in notazione scientifica il numero 451.000 Partiamo dall'ultima cifra e ci spostiamo verso sinistra finché non arriviamo alla cifra 4. Mettiamo qui una virgola e contiamo quante cifre abbiamo attraversato. In questo caso sono 5 cifre perché abbiamo attraversato 3 zeri, un 1 e un 5. Il risultato è dunque 4,51 per 10 alla 5. Cosa succede se invece abbiamo un numero piccolissimo? Esempio 1. Scriviamo in notazione scientifica il numero 0,051. Questa volta invece di dividere dobbiamo moltiplicare per 10 in modo da arrivare ad un numero compresso tra 1 e 10. Ci spostiamo dunque verso destra partendo questa volta dalla posizione della virgola. Ci fermiamo al numero 1 perché andando oltre otteniamo un numero non compreso tra 1 e 10. Mettiamo la virgola in questa posizione e contiamo quante cifre abbiamo attraversato. In questo caso sono 2, cioè abbiamo attraversato lo 0 e il 5. Vi faccio notare che attraversando anche il numero 1 otteniamo 51 per una potenza di 10 ma 51 non è compreso tra 1 e 10. Il risultato è dunque 5,1 per 10 elevato a meno 2. Questa volta l'esponente del 10 è negativo perché ci siamo spostati verso destra. Esempio 2. Scriviamo in notazione scientifica il numero 0,000501. Partiamo dalla virgola e spostiamoci verso destra finché non abbiamo attraversato il numero 5. Ovviamente non dobbiamo andare oltre. Ci siamo spostati di 4 cifre perché abbiamo attraversato 3 zeri e un 5. Il risultato è dunque 5,01 per 10 elevato a meno 4. Quindi ricapitolando, quando abbiamo un numero molto grande ci si sposta a sinistra dividendo per 10 ottenendo un numero compreso tra 1 e 10 moltiplicato per una potenza di 10 con esponente positivo. E questo esponente positivo coincide con il numero di cifre che abbiamo attraversato. Quando abbiamo un numero molto piccolo ci si sposta a destra moltiplicando per 10 ottenendo un numero compreso tra 1 e 10 moltiplicato per una potenza di 10 con esponente negativo. Questo esponente coincide con il numero di cifre attraversate cambiato di segno. Quindi se ad esempio abbiamo attraversato 4 cifre il numero sarà meno 4. La notazione scientifica è anche utile per capire l'ordine di grandezza del fenomeno che stiamo esaminando. L'ordine di grandezza è precisamente il numero di potenze di 10 che abbiamo nel numero. Per esempio la distanza tra la Luna e la Terra è 384.400.000 metri. Scriviamo questo numero in notazione scientifica. Partiamo dall'ultima cifra e ci spostiamo verso sinistra fino ad arrivare alla cifra 3. Mettiamo la virgola in questo punto e contiamo quante cifre abbiamo attraversato. Abbiamo attraversato 5 0, 2 4 e 1 8. Quindi sono 8 cifre. Dunque il risultato è 3,844 per 10 elevato a 8 metri. Questa è la distanza espressa in notazione scientifica. L'ordine di grandezza della distanza Terra-Luna è 10 alla 8 metri. Questa cosa dell'ordine di grandezza è molto importante per capire appunto l'ordine di grandezza del fenomeno che stiamo studiando. Se avete dubbi, perplessità o incertezze fatemelo sapere qui sotto con un commento. Con questo video abbiamo terminato. Come al solito se vi è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi, seguimi sui social e ci vediamo nel prossimo video.